salve amici e amiche oggi sabato 24 agosto 2024 vi racconterò della guerra delle lavatrici e vi pongo subito due testimonianze dirette due testimonianze opposte per la regola della par condicio vediamo subito un soldato ucraino gli si chiede perché ti sei arruolato come hai fatto a resistere tutti questi mesi al fronte cosa ti spinge a restare a combattere e lui dice perché a casa ho una lavatrice nuova e non voglio che me la rubino da dove vieni gli chiedono da kiev risponde e ora un soldato russo che dice siamo nei territori appena liberati non è sbagliato rubare le lavatrici dalla popolazione locale ci spingono volentieri a farlo prendete i gabinetti le lavatrici prendete tutto dicono e portatevelo alle posizioni di combattimento io per esempio ho un frigorifero una lavatrice e un gabinetto lì non li ho comprati ovviamente però insomma dai qualche volta queste storie drammatiche hanno anche un lieto fine per esempio a ottobre 2022 quando le forze ucraine sono riuscite a liberare parte dei loro territori occupati queste lavatrici sono anche tornate a casa qui per esempio possiamo vedere la felicità delle loro proprietarie insomma queste storie commoventi e singolari sulle lavatrici frigoriferi e gabinetti comunque vanno avanti da oltre due anni e mezzo ci sono decine e decine di casi documentati di lavatrici cadute vittime e finite nei mezzi militari sui mezzi militari in posti inverosimili frigoriferi insomma gabinetti li abbiamo visti ovunque caricati addirittura sui carri armati insomma spesso i droni di sorveglianza catturano immagini singolari come questi soldati che spostano lavatrici nei campi e ce ne sono tanti proprio tanti di questi video credetemi per qualche strano assurdo motivo youtube non mi permette di mostrarveli davvero non ho idea perché l'algoritmo è sensibile alle lavatrici ci sono moltissimi video in cui i soldati ucraini trovano lavatrici nelle trincee abbandonate nei depositi di munizioni addirittura dentro le casse di munizioni o abbandonate nei campi in alcuni casi queste lavatrici si trasformano in nuovi ingegnosi mezzi d'assalto altre volte le lavatrici ucraine cercano di scappare come per esempio in questo video e poi ci sono storie singolari come per esempio questa i soldati russi non sono riusciti a prenderla e così hanno deciso che nessuno l'avrebbe mai avuta e sì quelli sono fuori di proiettili qualcuno per esempio in questa immagine ha sottolineato che le 100 euro date dal governo russo ad alcuni degli sfollati della regione di kursk sono bastati giusto per comprare un sacco di cemento e cementificare la lavatrice nel muro e questo soldato ucraino per esempio ci fornisce una nuova prospettiva della questione e ci dice adesso capisco perché siamo capaci di muoverci così velocemente nella regione di kursk perché non abbiamo bisogno delle loro lavatrici e delle altre cose insomma questa storia di lavatrici e gabinetti che abbiamo visto in questi due anni e mezzo secondo voi ha coinvolto solo l'invasione dell'ucraina da parte russa certamente no perché ecco i soldati russi stanno facendo la stessa cosa anche a casa loro e queste immagini parlano chiaro ed è sempre lo stesso copione questo video è stato girato dalle telecamere di sorveglianza qui nel villaggio di gluskovo insomma capirete che siamo davvero tanto lontani dalle posizioni occupate dagli ucraini e quindi insomma credo che queste immagini rappresentino al meglio il concetto di liberazione secondo la filosofia militare russa che ci hanno fatto una statua o la faranno probabilmente ora cari amici mentre realizzavo questo video la mia compagna seduta sulla poltrona poco più in là ha iniziato a ridere perché scorrevo immagini di lavatrici che avete appena visto ma lei che è giapponese non capisce queste cose penso che noi italiani penso di sì un pochino le capiamo però per un giapponese è veramente difficile quindi non ha potuto fare a meno di chiedermi ma perché lo fanno cioè non hanno la lavatrice a casa hanno bisogno di lavarsi le robe al fronte che dire la mia risposta è stata che probabilmente lo stipendio medio a mosca oggi è di circa 300 dollari al mese a mosca e stiamo parlando mentre tutto il resto della russia probabilmente le cose non vanno meglio quindi forse molte famiglie non hanno la lavatrice a casa e che quei soldati probabilmente vengono prelevati dai villaggi più poveri e remoti della russia quindi magari sperano di rivendere quelle lavatrici o i loro pezzi per qualche dollaro al mercato nero vai te a capire però sì queste storie raccontano che l'esercito russo è anche questo e che alla fine la russia è una nazione povera né più nemmeno e questa almeno l'immagine che ci trasmettono e fra l'altro su questo questo aspetto del furto delle lavatrici se neanche dibattuto alcuni video filo russi hanno proposto che i componenti delle lavatrici servono per rimpiazzare l'elettronica di alcuni mezzi militari però io non credo che si possa fare nel senso i componenti elettrici delle lavatrici non si possono equipaggiare sui carri armati dai su via quindi chiusa questa premessa passiamo alle notizie di oggi le forze armate ucraine continuano a consolidare posizioni nella regione di kursk come ho accennato ieri la loro avanzata a nord ovest verso corenovo e alexandrovka ha ottenuto successo e queste proiezioni lasciano intendere che gli ucraini stanno cercando di accerchiare da due lati i centri urbani per così chiudere i russi all'interno piccole avanzate si registrano anche a est dove sono segnalati attacchi dronici e di artiglieria lungo le linee stradali a nord e a nord est mentre quello che possiamo aspettarci invece dalla zona a ovest delineata dal fiume seim e che gli ucraini stiano mordendo lentamente aggredendo lentamente le posizioni russe evitando assalti massicci per avanzare lentamente e così chiudere l'area dalle geolocalizzazioni rilevate possiamo dedurre che in queste ore si stanno concentrando per evitare che i 3.000 soldati russi chiusi in quest'area ricevino aiuti e munizioni via aerea o attraverso le chiatte sul fiume cambiando zona invece e scorrendo la linea del fronte immediatamente verso sud vediamo l'area di voychask dove non si notano cambiamenti significativi o meglio dalla mappa di deep state che mostra un'interruzione della pressione russa in città questo probabilmente dovuto alla mancanza di un reggimento che è stato spostato da qui in direzione di kursk ma dalla mappa di mayakosk vediamo che in questi ultimi tre giorni gli ucraini stanno di fatto spingendo quindi spero di portarvi buone nuove da questa parte del fronte nei prossimi giorni se ci spostiamo un poco più a est sud est voglio dire vediamo un altro piccolo progresso nelle posizioni ucraine presso la cittadina di novodiane quindi la data qui in quest'area è del 22 8 quindi due giorni fa con questa porzione di boschi liberata dalle forze ucraine l'iconcina parla di avanzata quindi anche qui vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni poco più a sud nell'area di chiasi viar gli ucraini continuano a tenere la linea favoriti dal fiume e dalla composizione del terreno mentre presso torensk e new york vediamo che i combattimenti continuano e i russi non hanno ottenuto nessun progresso in questi due giorni quindi le uniche conquiste da parte russa continuano in direzione di prosk al solito ritmo di poche centinaia di metri al giorno scusate l'ho pronunciato male pokrovsk a ritmo di poche centinaia di metri al giorno come abbiamo visto proprio negli ultimi report che ho pubblicato non serve ripeterlo ma l'impressionante numero di rapporti e attacchi che vediamo rappresentato dalle icone ci dà un'idea che in questa parte del fronte i combattimenti sono i più frequenti fra ieri e oggi si segnalano decine di attacchi ucraini sui mezzi russi che cercano di avanzare nella città di ovrica il 23 e il 24 agosto quindi fino a questa notte questa mattina letteralmente tutte queste icone blu raccontano il solito copione di mezzi e soldati russi presi di mira dall'artiglieria e dai droni la mia opinione è che in quest'area l'esercito russo stia subendo le perdite maggiori e ricordo che tutte le icone che vi mostro sulla mappa sono collegamenti a video geolocalizzati che testimoniano cosa è successo se facciamo un calcolo approssimativo del numero di mezzi distrutti e degli uomini che erano all'interno beh è facile credere che la stima di qualcosa come 8.000 soldati russi caduti in queste ultime due settimane non è inverosimile e non è esagerata credo personalmente che la strategia di mosca a questo punto sia quella di dimostrare a tutti i costi che la russia può fregarsene di perdere la regione di kursk perché spera di ricacciare indietro gli ucraini sul lungo periodo e nel frattempo continua imperterrita a mandare i soldati nel tritacarne quindi a questo punto è solo una questione di tempo prima di vedere gli effetti del logoramento delle loro risorse in questa avanzata e in generale su tutta la linea del fronte soprattutto perché più si allungano verso povkrovsk più dovranno preoccuparsi di rinforzare i fianchi perché è proprio lì nelle retrovie e sui fianchi che saranno più vulnerabili ma andiamo avanti con le notizie faccio una piccola rettifica come giustamente mi avete fatto notare la nave colpita due giorni fa nel porto di kafkaz non trasportava carri armati ma vagoni ferroviari pieni di carburante è un dettaglio non da poco ma mi era sfuggito quindi errore mio per questo motivo fra l'altro si sono generati incendi così vasti non vi posso mostrare le immagini signori miei perché ovviamente non so perché oltre alle lavatrici i gabinetti trincee soldati l'algoritmo di youtube demonetizza anche qualsiasi cosa che sia giallo rosso come un incendio in questi giorni comunque fidatevi della mia parola se vi dico che tra l'altro i depositi di carburante nella regione di rostov continuano a bruciare e gli incendi si sono propagati anche al centro abitato sono ormai cinque giorni che non si riesce a spegnerlo nella notte fra ieri e oggi poi sono circolati diversi video dei residenti nella città di kursk che parlano di continui allarmi aerei ed esplosioni in lontananza questo non è un elemento da sottovalutare perché immagino che da domani ci saranno nuovi dati sulla mappa nella nella in prossimità di kursk in questa pagina poi possiamo vedere qualcosa di interessante che conferma quanto abbiamo già visto nei giorni precedenti i russi cioè hanno costruito molto velocemente la loro linea di difesa e le trincee lungo tutta la strada e 38 che stiamo parlando di oltre 30 chilometri adesso dalle posizioni ucraine è davvero tanto indietro e questo dimostra che da parte loro si aspettano che gli ucraini avanzino ancora e di parecchio prima di raggiungere quelle posizioni vi mostro sulla mappa la linea di difesa costruita secondo questa pagina e la distanza dalle posizioni ucraine attuali andando avanti secondo jason j smart che seguiamo spesso perché è giornalista del kiev post questa notte un attacco con droni ucraino ha colpito in pieno un deposito di munizioni presso voronesque qui vi mostro sulla mappa come ho già detto non posso mostrarvi le immagini perché c'è tantissimo giallo e tantissimo rosso per un'altezza di un centinaio di metri verso l'alto e in largo fra le altre notizie oggi l'ucraina festeggia il 33esimo anno della sua indipendenza se volete vederlo vi passo un video in descrizione che è molto bello che è uscito oggi e mi ha lasciato davvero con il magone comunque abbiamo passando oltre abbiamo maggiori dettagli sulla tranche di aiuti militari appena approvati dagli stati uniti la lista è piuttosto lunga l'avevo accennata ieri ma oggi c'è la lista più completa si parla di sistemi antidronici ed equipaggiamenti munizioni per i pezzi di artiglieria imars munizioni calibro 155 e 105 missili tov che sono anticarro e sono molto utili per i mezzi come le jeep hanvi e i carri leggeri bradley che possono lanciarli poi missili javelin spalleggiabili che sono anticarro armato dei mezzi sempre le jeep classiche americane dei mezzi anvi ambulanze equipaggiamento medico equipaggiamento per le demolizioni non è specifico equipaggiamento vario poi per riparazioni pezzi di ricambio servizi pezzi per l'addestramento e il trasporto logistico andando avanti altra notizia interessante in questa pagina poi vediamo per esempio ricostruiti molti dei movimenti di truppe e mezzi della russia verso la regione di belgorod si parla di circa mille soldati il che non è molto almeno come qualcuno ha fatto notare sono meno di quanti ne perdono in un giorno ad oggi e poi questo articolo che viene dal financial times secondo cui presso le basi nato in germania si è ridotto il personale non necessario al minimo a causa di misteriosi incidenti legati al sabotaggio il secondo incidente dicono in due settimane per quello che viene descritto come un tentativo di mosca di destabilizzare il supporto europeo per l'ucraina ora devo essere onesto se parliamo almeno di supporto aereo europeo parliamo di awax aerei per la guerra elettronica trasporto logistica aereo cisterne e poi ovviamente c'è tutto lo schieramento dei pattugliamento aereo negli ultimi due mesi l'europa gli stati uniti per quello che vediamo almeno su flight radar che possiamo dedurlo sono davvero molto presenti con i loro assetti lungo tutta la linea di confine con la russia e la biorussia ed è giusto ricordare che le forze armate ucraine contano anche su questo supporto logistico aereo e di raccolta di informazioni di intelligence per portare avanti la loro resistenza contro l'invasore russo bene amici e amiche quindi detto questo per oggi siamo in dirittura di arrivo vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto qui sotto trovate tutti i bottoncini di youtube per aiutarmi e sostenermi in questa iniziativa come sempre un abbraccio e buona lavatrice no scusate buon fine settimana a tutti